Siamo arrivati un po' agli ultimi minuti di chiusura, quindi volevo fare un po' il giro con tutti quanti. Riprendendo il discorso, perché non eravamo usciti da rispondere Elisa Venturini, aveva accennato il discorso alle caserme, eccetera. Il problema caserme esiste, perché ci sono comunque queste grandi concentrazioni. Chi vive nei dintorni ha paura. Il discorso è sempre un po' della paura, della non... Siccome non riusciamo a governare questa situazione, non abbiamo neanche le forze sufficienti, non abbiamo le organizzazioni che possono dedicarsi risorse, insomma, o sono gestite male, come si diceva, poi alla fine, l'abbiamo capito tutti, questi soldi non sono gestiti in modo eco-congruo. Però queste grandi concentrazioni, tipo caserme, spaventano. Perché se viene presa una caserma a Padova, spaventa chi ci vive, la prendiamo al primo rocca da bonotare per carità, immaginiamo cosa succede lì, trasalgono tutti. Ho fatto degli esempi, ma ce ne sono tanti altri. Come avevo spiegato all'inizio della trasmissione, non sono i sindaci a trovare le strutture dove inserire il richiedente asilo. Perché fino a questo momento i richiedenti asilo sono stati inseriti in caserme dismesse, in strutture alberghiere dismesse, nel senso che non vengono più utilizzate, tanto è vero che c'è anche un caso di un agriturismo che perché accogli i profughi non può più essere considerato agriturismo. E' capitato proprio nel Padovano questo. Oppure sono privati che mettono a disposizione immobili per l'accoglimento. Quindi i sindaci, al di là di tutto, in questo processo, non hanno una funzione vera e propria per l'inserimento. Perché direttamente le cooperative, adesso so che è stata data indicazione da parte delle prefetture, alle cooperative di battere a tappeto i comuni, chiamando le agenzie immobiliari per chiedere dove ci sono degli immobili liberi. Quindi vai passando direttamente i sindaci, andranno dei privati che mettono in vendita gli immobili in affitto e allora andranno a collocarli. Quindi questo per dire il ruolo che in questo momento stanno avendo le amministrazioni. Le amministrazioni che stanno sollevando tutta una serie di questioni perché si arricchisce il privato a svantaggio della collettività perché ti ritrovi dopo tu a gestire sul territorio, in termini di sicurezza, in termini sociali, per non parlare di tutta la partita relativa a riconoscimento magari della residenza, per tutto quello che può comportare, ma anche lì abbiamo aperto tutta una serie di questioni sul fronte nazionale. Io quello che proponevo era questo, il ricorso alle caserme, ma le caserme con dentro i militari? Allora Lampedusa, giusto per citare un esempio, addirittura ha visto un incremento del turismo in questi anni. Lampedusa, la cui il sindaco ha ricevuto addirittura un riconoscimento proprio per il fatto che garantisce accoglienza, però se tu vai a Lampedusa tu non vedi nessun richiedente asilo, nessun profugo. Perché? Perché sono all'interno, con mura, con filo spinato, perché lì è un centro di prima accoglienza, non come quelli che abbiamo noi sul territorio per intenderci come bagnoli. Ma lì vengo, è il primo approdo che loro hanno, quindi all'interno di quella struttura... Quando puoi tenerli dentro fermi? Allora, la questione è proprio questa. Allora, non dico che ci sia lo filo spinato necessariamente, ma io dico che ci sia una presenza costante dell'esercito. Quanti militari abbiamo del nostro esercito che possono garantire una funzione di controllo con la loro presenza all'interno di strutture controllate, dove queste persone possono entrare e uscire, però vengono controllate? È questo che manca. Cioè, si perde veramente il controllo del fenomeno, proprio perché le persone sono presenti sul territorio, non si sa cosa fanno, dove sono, passeggiano avanti, indietro, non fanno niente tutto il giorno. È questo che dà anche la percezione di insicurezza, al di là della possibilità di commettere reati, ma proprio l'insicurezza che si percepisce in una situazione del genere. Chiarissimo. Però appunto volevo chiedere, rifacendomi a quanto aveva fatto l'osservazione, anche fossero questi centri, secondo lei sarebbe risolutivo questi luoghi di controllo? Ci sono forze sufficienti? E poi chiedo, che si intende magari più di aspetti dell'amministrazione, ma potrebbe anche essere lei, ma possono poi intervenire questi militari? Faccio l'esempio, parchetto pubblico dove ci sono gli anziani, i bambini, eccetera, arrivano 7-8 di questi ragazzotti che vedevamo nell'immagine, con gli occhiali da sole, come diceva Don Bizzotto, ma stanno così, con gruppi poi che magari non si trovano, l'anziano, i bambini, la mamma non ci vanno più, questi lasciano per terra di tutto e di più perché non hanno un'educazione, una cultura anche del rispetto della cosa pubblica e diventa zona di paura. Però l'esercito può intervenire? Credo di no, perché non può farlo. Mi permetto solo di dire, allora in Turchia... Abbiamo dovuto chiudere il parco, abbiamo messo un controllore, modificare il regolamento in modo che non ci sia stata la possibilità di accedere, perché? Perché ovviamente occupavano tutto quanto il parchetto e dopo non andavano più le mamme con i bambini, è stata una grande protesta. Sì, questo è il provvedimento. Ed è quello che dicevo prima, allora in Turchia Erdogan può permettersi di fare dei centri di accoglimento che non so neanche come vengano gestiti, se da un punto di vista umano la cosa sia ammessa. Però l'Europa non dice niente, anzi fa comodo. Qui in Italia addirittura veniamo giudicati perché magari diamo delle indicazioni su come gestire le nostre aree pubbliche, perché non possiamo permettere che magari non si sporchi. Ecco il paradosso italiano, per cui noi continuiamo ad essere sempre in qualche modo colpevolizzati di quello che succede, o comunque l'italiano che deve provvedere, quando il resto del mondo invece fa sempre quello che vuole. Chiarissimo, prego. Allora... Alla luce di una situazione che è reale, è giusto che poi un sindaco debba chiudere un parco perché altrimenti le persone non ci vanno più. Però un sindaco è obbligato a chiuderlo in qualche modo se la situazione di insicurezza diventa pesante. E bisogna vedere, dipende, dipende se chiuderlo o meno, dipende dalla situazione. Allora, il fatto di accogliere i migranti nella prima accoglienza nelle caserme con i militari e quindi fare tutto va bene ed è il minimo che bisogna fare. Basta che sia limitata nel tempo. Esatto, che sia limitata nel tempo. Però poi nella seconda accoglienza ci deve essere un controllo. Non possono essere le cooperative da sole a gestire il tutto. Ci deve essere un controllo. L'istituzione deve essere lì a controllare che effettivamente... Ma chi è l'istituzione? L'istituzione sono i comuni e anche l'esercito. Il comune che deve controllare. Deve esserci la persona... Cioè togliamo la polizia urbana dalle strade per controllare... Perché non ci sono... Allora, in Italia... Gli appartamenti. In Italia c'è una carenza a livello di risorse umane generalizzata sia nei comuni che nelle pubbliche istituzioni. Purtroppo questo è stato dettato da un mercato del lavoro che non c'entra niente con i migranti, ma di cui si pagano le conseguenze oggi. Perché la sostituzione per i pensionamenti non è avvenuta in modo congruo, quindi polizia municipale è poca, quindi personale poco, perché ci sono anche i personali piegativi che lavorano con i migranti. Da 250 a 300 in due anni e mezzo. È tutta una filiera. Il fatto che il migrante sia qui, che noi dobbiamo gestirlo, è l'ultimo anello di una catena molto più lunga che parte a monte in maniera molto più pesante. Allora, io sono d'accordo con il discorso delle caserme, con il militare, con la funzione militare di controllore. Certamente il militare non ha funzione di educatore. Perché questa gente che viene dai villaggi mangia per terra, lava le pentole su un'altra bacinella per terra. Perciò hanno una condizione che era forse della pre-campagna veneta, ma di 80 anni fa, come minimo, come minimo. Di conseguenza ci vogliono l'uno e l'altro. Questo non può finire lì però, questa situazione non si colloca solo lì. Perché c'è un successivo step per forza. Cioè di migranti che vogliono andare altrove, che quindi una volta che hanno ottenuto la condizione di rifugiati possono muoversi. E di migranti che dovrebbero essere rimandati a casa, perché non esiste la possibilità in Italia oggi di rimandare indietro chi non ha questa condizione. E nel momento in cui hanno lo status di rifugiati, allora si può lavorare sulla politica del lavoro, sulla politica della casa, su tanto altro che li rende sul trampolino di partenza, non di termine, di partenza per quella che si chiama integrazione, usando una parola che a me non piace. Perché allora hanno la condizione per potersi mettere a confronto con la cittadinanza del posto, la cittadinanza autoctona. Ma questo vuol dire che almeno sono tra gli step, come minimo, come minimo. Quindi è stato attuale, siamo lontani. Don Bizotto, poi voglio chiudere con loro. Prego. Ma io personalmente, forse è ingenuo quello che sto dicendo, però credo che tutte le persone che vengono non abbiano il piacere di essere chiamati né migranti né profughi né altro, perché abbiamo tutti il nome e cognome. E la domanda che mi faccio è com'è che favorisco una storia dove siamo capaci di vivere insieme e fare qualcosa di bello per cui non ci vediamo come nemici, tanto meno i più poveri. Il guaio delle nostre società è che i più poveri sono i nostri nemici, ma è possibile. Veniamo tutti da quella storia. E allora per me la cosa più bella è riconoscere il nome e il cognome anche a loro e tentare di fare nei loro confronti quello che vorrei che venisse fatto a me. Perché il problema centrale delle persone non è quello di fare l'ideologia del migrante, dell'altro, è tentare di vivere e trovare un modo di vivere meglio di quello che hanno trovato fino adesso, che ha vari aspetti, vari tipi e che ha bisogno anche di tempi lunghi. Perché la grande novità che avremo è che la cultura non fa salti, il portafoglio può fare salti. È più facile dare 2 euro, 5 euro, 30 euro che non cambiare la testa. E questo qua è per tutti, anche per me, non agli altri. Allora di fronte a questo, siccome il mondo è già cambiato, siamo in un mondo globale, non è più quello che c'era prima, ma per tutti e anche per noi altri, perché anche noi andiamo in giro per il mondo. E sono tanti quelli che vanno in giro. Teniamolo presente che gli italiani che vanno fuori, sono di più dei migranti che arrivano dentro. Se abbiamo presente queste cose qua, ma io non credo di avere la chiave in mano. Ma l'italiano non viene mantenuto che va fuori, capisce qual è la differenza? Certo, 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 ma vive fuori, ma vive fuori, ma vive fuori, dentro un territorio degli altri. Ma contribuire alla ricchezza degli altri paesi è nulla. Secondo me non c'entra nulla la libera cieca. L'incoplusione, il bitonci, il caone, velocemente, c'entra... Prendo un minuto. Qui non c'entra nulla la libera circolazione delle persone, perché una cosa sono i parenti o i nipoti di Don Albino e Bizzotto che sono andati a lavorare magari a Londra, giustamente, o in altre parti d'Europa e sappiamo come i nostri ragazzi, compreso il sottoscritto tanti anni fa, insomma, magari vanno anche in cerca di lavorare in Europa, in Inghilterra, anche per imparare una lingua, per provare alcune esperienze, anche diversa, anche per necessità. Ecco, qua parliamo invece di un fenomeno preoccupante, che parte dall'Africa, di persone che non hanno la cultura, la preparazione, neppure per fare alcuni lavori basilari, e che starebbero meglio a casa loro, quindi formati a casa loro, che invece vengono nel nostro territorio, che peraltro fanno un anno o due anni senza far nulla, a 35 euro al giorno, che pagano ovviamente le cooperative, loro a bighellonare... Loro seguono loro, lo so anch'io che i germani hanno tre mesi al massimo, lo so anch'io, ho capito, ho capito, sono d'accordo nella critica, sono d'accordo nella critica, non posso scaricare su di loro, chiedono di vivere, sai, chiedono di vivere. Quando uno fa il sindaco, deve pensare prima ai propri cittadini, va bene, a tutti, ma prima ai propri cittadini residenti, di quelli che arrivano magari l'altro giorno, quindi prima pensiamo ai nostri, dare una mano ai nostri, che c'è una crisi pazzesca, perché io ho tanti anni che faccio il sindaco e l'amministratore, va bene, e non ho mai visto come negli ultimi anni persone a venire a chiedere posto di lavoro, fenomeno che lei sa bene, Don Abilo Bizzotto, non esisteva dieci anni fa, perché non venivano padri di famiglia di 45-50 anni, va bene, che hanno perso il posto di lavoro e sappiamo benissimo che avranno difficoltà a essere impiegati nel posto di lavoro, magari con tre figli, in difficoltà, ecco, non c'erano queste cose dieci anni fa, pensiamo prima ai nostri e dopo, perché tanto l'Africa non ci sta in Italia, non ci sta, è una questione quantitativa, cioè non ci sta. Ma perché un bambino nasce in un telo di plastica, non è meno figlio di un altro, perché tutti i termini dell'ospedica. Io non dico che non bisogna aiutare, ma diamogli una mano là, i 4 miliardi e mezzo, quanti bambini vengono soccorsi con quei soldi, il QA, ma solo quei contributi che vengono dati dai privati, gestisce migliaia, migliaia e migliaia di parti, va bene, privatamente. Cosa potrebbe fare il governo e l'Europa intera per gestire il problema africano? tantissimo, tantissimo, che non viene fatto purtroppo, però a casa nostra, a casa nostra non possiamo gestire a casa nostra, questa è la realtà. Fa on e poi inclusione. Guardi, io rimango dell'idea che questa è un'ondata a nord che non si ferma domani, perché non abbiamo regolamentato, anzi abbiamo fatto un regolamento diverso. Quindi secondo lei il decreto Minniti per andare nel concreto non è un paio di più? Spero, io lo spero, però voglio dire, bisogna essere, non dico cattivi, bisogna essere un po' più ferrei, come sono stati ferrei in altri paesi, perché quando capiscono che non c'è tutta questa possibilità di venire qua a bighellonare e pagati, qualcuno, ripeto, telefona a casa e dice guarda che è finita che arrivi nella costa libica e ti portano in Italia e ti mettono dentro in qualche parte e spena. Mi dice creare maggiore difficoltà. Perché noi parliamo, scusate, con i soldi degli altri, con i soldi dei cittadini, qua tutti fanno bei discorsi, però nessuno mai ha lavorato in un'azienda qua dentro, nessuno si è fatto i calli, nessuno ha preso i lampi degli occhi. Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace, sì, tre mesi, tre mesi, tre mesi, tre mesi, qua, 30 euro, poi dicono non basta per l'integrazione, esercito, spese di esercito, non basta, sanità, scorpacciate sanitarie, abbiamo la sanità che non sappiamo come tenerla in piedi, scorpacciate sanitarie, tutti sono bravi a fare l'integrazione con gli soldi degli altri, ma poi diventiamo poco competitivi in Europa, poco competitivi, l'Europa ci dice, puoi pure sforare, solo per i soldi che dai per l'immigrazione, creiamo un ulteriore debito per l'immigrazione, così poi siamo ancora più sotto scacco dell'Europa. Infatti, io ho sforato, devo dare il minuto di chiusura. Siamo completamente fuori, siamo completamente fuori, signori, siamo completamente fuori dalla realtà che vuole il popolo. Io se non sforo, prego, il popolo non vuole questo. Io vorrei tranquillizzare un po' chi ci segue da casa, i padri di famiglia, perché l'immigrazione in Italia è poca, nel Veneto sono il 4%, in Sicilia ne accorgono il 21%, quindi il problema emergenza immigrati nel Veneto e a Padova non c'è. Certo, c'è il problema se la cosa viene gestita male o se le amministrazioni o il prefetto trovano soluzioni inadeguate. Quindi stiamo pur tranquilli, non c'è un'invasione, non c'è la guerra e non mettiamo i poveri nuovi contro i poveri e i vecchi, perché la guerra tra poveri fa piacere solo a chi povero non è. Benissimo, devo chiudere perché abbiamo un forte tempo massimo. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, ringrazio di aver approfondito questo tema non semplice, non facile, ovviamente riscalda gli animi come anche dei nostri ascoltatori. Vi lascio al quinto piano dopo la pubblicità. Buona serata, buonanotte, noi ci vediamo domani. Grazie.